Nel campionato di eccellenza calabrese ciò che non ti aspetti a volte può accadere. Fosse stato quotato dai siti di scommessi, il 2 della Luzzese era sicuramente alto, molto alto. Eppure la squadra di Mr. Malfi, senza nessun timore reverenziale, sul neutro di La Mezzia Terme, batte la capolista Locri. Seconda sconfitta in campionato per gli amaranto ionici. Alza un tantino la quota salvezza, si avvicina all'Aurora Reggio al penultimo posto e costringe l'undici di Mr. Scorrano a rimandare di qualche settimana la matematica promozione. Il Cotronei vince con lo scalea e scavalca il Siderno in classifica. Siderno fermato a Soriano e gara della quale vedremo gli highlights tra poco. L'Acri batte la Mantea e riavvicina il Castrovillari, fermato sul pari dalla Reggio Mediterranea. Buon pari del Sersale a Trebisacce, grazie al solito Caturano, che entra dalla panchina, si guadagna un penalty e lo trasforma. Mentre sempre in chiave salvezza, ottima la vittoria del Cutro sull'Aurora Reggio. Vediamo il meglio del match di Soriano. Padroni di casa, largamenti rimaneggiati, privi di Viscomi e Mano per infortuni e di Clasadonte e Nicolovici per squalifica. Anche gli ospiti si presentano senza Fuda, squalificato, e Luciano Pipicelle e Camfri infortunati. Prima parte di gioco molto noiosa, con possesso palla ospite e padroni di casa attenti a non sbilanciarsi. Al ventesimo arriva la prima conclusione in porta, è di Catalano, che dal limite cerca di sorprendere Stilitano, ma il numero uno ospite non si fa sorprendere. Cinque minuti dopo c'è la prima clamorosa occasione per gli ospiti. Calcio di punizione battuto da Minici. Svetta tutto solo Coris, ma Piccolo compie un autentico miracolo. Sul finire del tempo è Akpan a liberarsi di Greco, forse in maniera irregolare. Ma Cincischia prima di calciare e si fa recuperare dai difensori. Finisce il primo tempo con uno scialbo risultato di 0-0. Pronti via e già dopo un minuto della ripresa c'è un liscio clamoroso di Greco, ma è bravo Romeo a salvare ancora una volta su Akpan. Il copione si ripete al settimo, ancora il numero sette ospite, ritarda a calciare e Greco recupera. La pressione ospite cresce in maniera evidente, al ventesimo arriva il gol. Calcio di punizione di Minici, palla lunga in area dove Ciccone, appostato sul secondo palo, non ha problemi a battere Piccolo. Neanche il tempo di festeggiare, che quattro minuti dopo c'è questo presunto fallo di mano di Okoroi su Angotti e l'arbitro, il signor Via Piana di Catanzaro assegna il penalty. Sul dischetto si presenta lo stesso Angotti che batte Stilitano badando più alla potenza che alla precisione. Da qui alla fine nient'altro da segnalare se non questa mischia in area di rigore sorianese in pieno recupero con buona occasione per Pizzoleo, ma la sfera termina nelle mani di Piccolo. Finisce dunque 1-1, un punto che va benissimo al Soriano, un po' bene al Siderno contestato a fine gara dai propri tifosi. Allora, mister Galazzi, a un certo punto ci aveva creduto in questa vittoria. È vero che il campo vi penalizza tantissimo perché è un campo molto stretto, molto piccolo. Forse non si confà alle vostre abitudini di gioco. Voi avete molto attaccanti, molto molto forti. Nell'unica occasione avete subito questo rigore e quindi questo pareggio molto molto rammarico nello spogliatoio. No, il rammarico è per l'occasione che abbiamo avuto, non siamo stati bravi a sfruttarli perché abbiamo avuto 3-4 palle e golle proprio per fare solo col portiere e tirare un po' per fare gol. Loro sono stati bravi a credere, l'unico corso che hanno fatto a fare un rigore. Brava loro, andiamo avanti e continuiamo così solo questa strada. A questo punto vi risupere nuovamente il Cotronei in classifica. Siete rimasti in quattro a giocarvi i posti per i play-off, naturalmente facendo gli scoggiuri per quello che succede in Serie D. Da qui alla fine saranno tantissime partite, tantissime finali. Possiamo rassicurare ai tifosi che ho visto che alla fine un po' contestavano che il Siderno c'è e il Siderno se la giocherà fino alla fine? C'è che se il contesto non è una squadra che ha avuto queste palle e golle, veniamo a Sturiano, è un campo difficile giocare. Sicuramente il ramarico c'è per l'occasione che sono state create. Noi andiamo fino in fondo a cercare di fare il nostro dovere e cercare di prendere il secondo posto. Se no l'obiettivo nostro è entrare nei play-off e noi nei play-off ci siamo. Però faremo di tutto per cercare con il Cotronei, Castrovillari e le acri a cercare di arrivare secondi. Senti mister, oggi il Locri ha presso in casa con la Luzese, una sconfitta forse un po' inaspettata, tra l'altro domenica prossima va a giocare contro l'Aurora Reggio. Altra partita molto molto difficile, forse per il primo posto non si apriranno più le porte. Tra voi Castrovillari, Cotronei e come dicevi tu Acri siete le quattro candidate per i play-off. Secondo te chi delle tre che vi seguono vi potrebbe impensierire di più? Sono tutti, speriamo noi di impensierire all'altro e speriamo di arrivare noi secondi. Faremo di tutto per cercare di arrivare. Ultima cosa e poi ti lascio, il Soriano come l'hai visto? Aveva diversi infortunati, diversi squalificati, nonostante tutto però ha giocato, dura la pelle diciamo così. Il Soriano ha fatto la sua partita, la sua onesta partita, le solite partite che fa in casa, è una squadra che il campo suo fa la sua forza. Sono stati bravi, ci hanno creduto fino all'ultimo. Ti torno a ripeto, sull'unico cross, non ho visto altri cross, ho il mio portiere toccare la palla, anzi penso che ho contato solo tre rimesse dal fondo, tre, quattro, ma posso sbagliare di qualcuno. Per Cessuriano, complimenti, complimenti a M. Corace, complimenti alla squadra, alla società ed è giusto il pareggio come è andato, ci hanno creduto. Allora, mister Gregorace, un pareggio che vale oro, visto la situazione delle infermerie, soprattutto perché riguarda gli squalificati, una squadra da reinvertare la sua. Però, come dire, avete sudato le classiche sette camicie e alla fine credo che il risultato vi premi. Sì, è vero. Abbiamo fatto una grande partita sotto il punto di vista agonistico, della cattiveria e della determinazione. C'erano delle assenze importanti, mi sono dovuto rinventare il centro campo, però quelli che hanno giocato hanno fatto una grande partita. Non era facile, abbiamo giocato contro una squadra ben organizzata, con dei giocatori importanti, con dei singoli importanti. Oggi per noi questo punto veramente è orocolato e dobbiamo cercare di continuare da questo punto di vista, cercando già da domenica di recuperare qualcuno infortunato e rientro quello della squalifica per andare alla Mantea a giocarci la tutta. A questo punto tutte le partite diventano fondamentali. È vero che il divario dalla penultima e anche dalla terz'ultima la Mantea continua a crescere. Qualora eventualmente si continuasse in questo modo e soprattutto se in serie di le cose, speriamo, vadano bene per le calabresi, ci sono ottime possibilità che eventualmente non vengano fatti nemmeno i play-out. Sì, come stanno andando adesso le cose, sì, può dare sicuro che non si fanno questi play-out, però Gregorio noi dobbiamo guardare in casa nostra veramente che stiamo lavorando in grosse difficoltà e ci abbiamo delle difficoltà da tutti i punti di vista. Non è facile, credimi, veramente lavorare in questa situazione, però non dobbiamo mollare niente. Fino alla fine dobbiamo cercare di fare partita dopo partita, gara dopo gara, cercare di fare il massimo dei punti e dopo alla fine terremo le somme. Senti Saverio, dato per scontato che forse ormai Luzzese ed Aurora credo che siano con un piede e mezzo nel campionato di promozione, eventualmente la corsa su chi può essere fatta, se c'è una squadra specifica oppure se dovete cercare di lottare con tutte le squadre che vi seguono oppure che vi precedono? Ma guarda, dobbiamo lottare con tutti perché guarda, io ho visto che la Palana ha fatto 4-5 risultati, tutti i consecutivi, solo oggi mi sa che se non sbaglio ha perso, però ha guadagnato un sacco di punti. Quindi dobbiamo guardare in casa nostra, sinceramente, guardare in casa nostra e non fare i conti nelle squadre avversarie. Dopo alla fine penso che ce ne avremo qualche soddisfazione. Guarda, oggi sono contento perché non era una partita facile quella di oggi, Gregorio, era una partita difficilissima, non mi è piaciuto tanto sinceramente dal punto di vista del gioco, troppi palloni lunghi da una parte e dall'altra, però è la classica partita questa di giocare sulle seconde palle, quindi però faccio un plazo perché senza tre giocatori fondamentali per la mia squadra io non mi posso permetterti di tenere di tenere gente fuori da questo punto di vista, quindi è un plazo e complimenti ai miei ragazzi.